Salutiamo il professor Paolo Becchi, docente di filosofia all'Università di Genova. Buonasera professore, uno dei 300 che ha firmato l'appello dei professori contro il Green Pass. Buonasera professore. Buonasera, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. 300 che si sono di improvviso raddoppiati perché siamo a quota 600. Ah, adesso 600. Quindi diciamo che all'interno del mondo accademico non c'è simpatia nei confronti del Green Pass, si può dire questo. Insomma, mi pare una minoranza abbastanza consistente comincia a farti sentire, direi di sì. Eh sì, allora, quali sono i suoi motivi? Noi abbiamo sentito i motivi del professor Barbero espressi all'incontro promosso dalla CGL, che peraltro, appunto, con applausi dei militanti simpatizzanti della CGL, c'era là sul palco anche il segretario generale Landini, dice se volete l'obbligo, stabilite l'obbligo, non questa maniera così ipocrita di mettere l'obbligo senza metterlo. I suoi motivi sono gli stessi o sono altri? Ma guarda, sicuramente questo è un motivo validissimo. Ce ne sono altri. Il primo su cui vorrei insistere è chiaramente si tratta di una disposizione discriminatoria. Questo mi sembra evidente perché, insomma, la nostra Costituzione, all'articolo 3, dice che siamo tutti di pari dignità sociale. Qui invece abbiamo quattro categorie di persone diverse, vaccinati, non vaccinati, vaccinati con una dose e quelli che sono guariti. Con disposizioni diverse a secondo se sei vaccinato, non vaccinato, eccetera, eccetera. Quindi chiaramente si tratta di una norma, di una disposizione che è contraria alla nostra Costituzione, proprio immediatamente per l'articolo 3. Poi ovviamente c'è anche un discorso da fare più generale che riguarda il tema della libertà. Insomma, è una norma questa liberticide, è una norma che chiaramente va contro le libertà individuali. Ne abbiamo avuto tantissime nel periodo passato, con le chiusure dei lockdown e qui il ricatto è se vuoi uscire ti devi sostanzialmente fare la punturina se vuoi uscire di casa. E anche questo è, a mio avviso, del tutto inaccettabile. Addirittura c'è chi chiede proprio la messa fuori gioco dei lavoratori. Adesso l'ultima, appunto, indiscrezione, è che verrà allargato l'utilizzo del Green Pass anche ai lavoratori privati. È ovvio, capisci? Non ha molto senso adesso polemizzare sul problema, è meglio l'obbligo. E loro che cosa ti dicono? Ma noi te lo facciamo avere così, estendo a tal punto il Green Pass che c'è un obbligo surrettifio, perché lo estende a tutte le categorie, chi resteranno fuori? I pensionati, ma si presume che al 90% siano già stati vaccinati, quindi è chiaro che il Green Pass ha soltanto, estendendolo a sempre maggiori categorie, non fa altro che diventare un obbligo indiretto. Certamente è uno schifo, diciamo, sotto il profilo morale. Ecco, abbiamo sentito prima un membro della segreteria del PD, l'onorevole Borghi, Borghi del PD, quindi non Borghi della Lega, che a mia domanda, cioè glielo ho detto più volte, alla fine quasi sei arrabbiato, dice, ecco, non possiamo stabilire l'obbligo altrimenti la Lega esce dalla maggioranza, perché la Lega non è d'accordo con l'obbligo. Quindi praticamente l'obbligo non si fa per questo motivo, secondo una voce del PD. Ma guarda, io credo che ormai la Lega sia stata asfaltata. Qualsiasi cosa... Sì, alzano sempre di più l'atticella. Abbiamo cominciato con l'idea che, ma mai più un caffè non si può prendere in un bar. Ricordate, no? Quando Salvini diceva, ma no, figuriamoci se uno non può prendere un caffè in un bar, e siamo arrivati all'accettazione del Green Pass per gli statari, adesso per i privati e per tutti. Quindi c'è il fatto che non... E' come la questione della fiducia adesso, no? Hanno contato... Noi togliamo tutti gli emendamenti e non ha neanche senso mettere la fiducia. Cioè è talmente forte Draghi che non ha neanche bisogno di fare quello che faceva Conte, che doveva mettere su tutti i provvedimenti la fiducia. Cioè qui lui è talmente forte del sostegno che ha di tutti i partiti che con lui governano, che a quel punto non ha neanche bisogno di mettere e di porre la fiducia. Quindi direi che insomma è abbastanza... Questo discorso è solo la Lega. La Lega mi pare che ormai sia disponibile ad accettare tutto, però è molto più conveniente complessivamente per l'attuale sistema quello di avere un Green Pass così, in cui l'obbligo è nascosto surrecissiamente, che avere l'obbligo diretto. È soltanto una questione di vantaggio, ma sono convinto che se dovessimo arrivare ad una situazione che sta già cominciando a maturare, perché non ci sono più i 30-40 morti, cominciano a 40, 50, 70, 100, eccetera, perché stiamo andando chiaramente verso una seconda ondata, è una seconda, non lo so, quello che farà non lo so, in autunno si prepara, e quindi io credo che l'obbligo verrà eventualmente introdotto soltanto per dare il colpo di grazia a Salvini. Cioè, quando la situazione sarà portata... Che poi adesso se se ne va o no non cambia niente, perché tanto le elezioni non si fanno, quindi non si possono fare. No, assolutamente, quindi diciamo così, l'obbligo al momento è fuori, non è in discussione, lo diventerà, lo potrebbe diventare in autunno, nel momento in cui aumenteranno il numero di contagi, aumenteranno soprattutto il numero di morti, e a quel punto lui sarà costretto a calare la testa, perché gli diranno obbligo generale per tutti, o nuove chiusure, e a quel punto vedrai che anche quello che ha detto oggi, ma è più obbligo, verrà accettato. Ma non so neanche se ce ne sarà bisogno, perché ripeto, ampliando sempre di più le categorie, a quel punto uno si chiede che senso ha l'obbligo, dal momento che tutti sono praticamente costretti a farlo. Però toglie delle responsabilità. Allora guarda, leggo dei messaggi che sono arrivati, 3775 104 500, allora sono estremamente favorevole ad entrambi gli obblighi, sia vaccino che Green Pass, e ora di finirla con questi Novax, PS, quando andate a vaccinarvi firmate un'informativa, e non una liberatoria, scrive Luca. No, in realtà no, è un consenso informato, che è un'altra cosa. Il consenso informato vuol dire che tu sei stato informato degli eventuali effetti collaterali, degli eventuali rischi, così come per qualsiasi pratica medica, e ti assumi la responsabilità di andare avanti con quella pratica. Questo è il consenso informato. Quindi è una cosa diversa. Se ci fosse l'obbligo, niente, non dovresti firmare niente, perché sei obbligato. Io volevo precisare al primo persona che era intervenuto, che comunque questo manifesto non ha a che fare con posizione di Novax. Molte persone di questi 600 che hanno firmato sono persone vaccinate. Il problema è anche scritto nel documento. Il problema è semplicemente un problema di libertà. non è questo documento di questi 600 professori, ricercatori, del mondo universitario, un documento Novax. Questo è un documento semplicemente Freevax per la libertà di vaccino e contro l'uso che si sta facendo del Green Pass, ma non ha niente a che fare con la negazione del vaccino. Questo è importante. L'altro aspetto del consenso, attenzione, è appunto perché non c'è l'obbligo. Il problema è questo. Se ci fosse l'obbligo, allora tu non firmeresti questo. Cioè, il consenso informato non lo devi firmare perché te l'hanno obbligato. In quel caso, comunque, lo Stato dovrebbe automaticamente risarcirti dei danni se qualcosa ti succede dopo che ti sei vaccinato. In questo modo, tu, in fin dei conti, firmando il consenso, dice che sei d'accordo all'uso del vaccino, anche se poi magari non lo sei, però ufficialmente tu hai firmato un consenso informato. Una cosa assurda, perché il consenso informato lo firmi, deve essere libero. Una delle caratteristiche bioetiche fondamentali del consenso informato è la libertà. Quindi c'è un consenso che è costretto, non è previsto. Bravo, sì, è vero. Il consenso informato dice io scelgo in tutta libertà se vaccinarmi o meno, ma qua addirittura c'è l'amministratore delegato di Conad che dice che se non ti vaccini non ti danno lo stipendio. Capisci che a quel punto non c'è consenso. Allora, certo, ha ragione Barbero quando dice mettete l'obbligo, a quel punto io non firmo nessun consenso perché è obbligatorio, e non se ne parla più, ecco. Eh sì, infatti ha parlato di ipocrisia, insomma. Eh, è giusto, è ipocrisia, è ipocrisia, però è una cosa che è utilissima perché a quel punto, insomma, se succede qualcosa vai poi a voler chiedere l'esarcimento del danno. La prima cosa che ti dicono, ma mi scusi signore, lei ha firmato, eh. Eh sì, non c'è dubbio su questo. Professor Becchi, grazie, buon lavoro, buon tutto. A voi, ciao. Grazie. Grazie al professor Paolo Becchi.